La giornata di oggi vuole focalizzarsi sull'accesso ai farmaci orfani. I farmaci orfani sono autorizzati a livello europeo, ma è l'Italia che deve decidere le condizioni a cui i pazienti possono avervi accesso. Lo abbiamo chiamato un percorso ad ostacoli perché le verifiche sono tante e doverose da fare. La problematica che troviamo però è il tempo che viene impiegato per queste verifiche. Allora ci vuole un lavoro corale delle istituzioni, delle aziende, di chi fa norme e di chi le applica per riuscire ad avere un accesso più precoce per i pazienti che hanno necessità di questi farmaci. Grazie.